Come si aumenta l'autostima? Beh, intanto cos'è l'autostima? Semplicemente viene definita come un insieme di valori, di convinzioni che abbiamo di noi stessi. Ed è innegabile una cosa, che quando ci guardiamo allo specchio e non ci piacciamo, quando il nostro aspetto fisico non ci soddista, la nostra autostima è molto bassa. Le persone molto spesso hanno un rapporto di amore e odio con il proprio corpo in quelle situazioni. Ed è innegabile che se non piacciamo a noi stessi, difficilmente riusciremo a stare bene in situazioni esterne, con gli altri al lavoro, in famiglia, qualsiasi cosa sembra essere negativa, vero o no. Ed è altrettanto vero però che quando ci vediamo in un corpo migliore, allora ecco che la nostra autostima sale. Questo per dirvi cosa ragazzi? Che se fate della vostra vita il desiderio di volervi bene, deciderete allora di intraprendere un percorso continuo di trasformazione mentale, fisica e anima, anche mettiamoci pure questo. Perché è indubbio che nel momento stesso in cui iniziate veramente ad amarvi, iniziate a fare esercizio fisico in maniera costante, controllare il vostro regime alimentare, il vostro fisico cambierà, ma quando cambierà il vostro fisico, cambierà anche il vostro stato d'animo e la vostra autostima salirà. E quando tutto questo accade, anche la vostra vita in generale avrà sicuramente un miglioramento.